Non so fare le espressioni, nelle moltiplicazioni Le incolono sempre male, se c'è qualche decimale Le parentesi sono state, mi confondono la mente Proprio come fa l'amore, fra parentesi di cuore Le parentesi ammardita, cambieranno la tua vita Se ne scrivi penna sfera, esistenza tutta intera C'è chi usa solo penna, lo sa E chi mette il punto e dice, basta E c'è tango, c'è chi clicca Voi mi ricordate quando io feci l'esame di maturità E il professore mi disse, fischietti, farai un esame con i piedi E gli disse, magari mi piace 40 rubri Buongiorno ragazzi, questa è una scuola serale con tutte le sue evidenti carenze Come vedete non siamo messi molto bene Ma soprattutto la situazione è peggiorata oggi Perché noi avevamo una sola bidella La quale sta per diventare mamma Ed è entrata nel suo periodo di puerreperio Quindi mi raccomando Sporcate quanto meno è possibile Lasciate tutto in ordine Fino a quando il nostro titolare non troverà una sostituta Non troverà una sostituta Proprio come fa l'amore Fra parentesi di 40 Aiutatemi, nascondetemi, mi prego, aiutatemi Non dire almeno nessuno Aiutatemi, mi prego, aiutatemi Calmatevi, sedetevi e diteci che cosa vi è successo C'è un uomo che mi sta inseguendo E perché mi sta inseguendo? Perché quello mi perseguita, è diventato un'ossessione Io non ce la faccio più, non ce la faccio più Ma chi è quest'uomo? È un mio cliente Ah, è un vostro cliente? Sì, da quando gli ho fatto uno dei miei servizi, modestamente Oh, non me lo levo più di tutto Viste che è rimasto molto soddisfatto Sì, ma un'esagerazione Quello da una volta alla settimana che veniva È passato due, tre volte a settimana Poi tutti i giorni Poi due volte al giorno Tre volte, quattro volte Qua chi è Rambo? Ma fosse solo questo Poi ha cominciato pure a portare un amico Poi due amici, tre amici Ma almeno pagandano È certo che faccio le opere di bene, scusate Quello è il lavoro mio Il fatto è che questi suoi amici Sono sporci E beh, signorini, questi sono gli inconvenienti del mestiere Si ma bruciavano in una maniera che faceva schifo Si sarebbero almeno potuti fare un bagno Prima di venire da noi Certo, e sarebbe stato anche giusto È invece niente Allora ho deciso di scappare e cambiare posto Allora E dove stavate? Ah, non c'entro Conoscete la ferrovia? Certo, a me la ferrovia faceva comodo Eh sì, perché abitando là vicino Potevo andare al posto di lavoro senza prendere nemmeno la macchina Ma che devo fare? L'importante è che quegli sporcaccioni non mi vedano più in quella zona E volete cambiare zona? Certo E dove volete andare? Sulla Domiziana? No, no, è peggio A Via Galaccio Tu stai zitta A casa mia Eh, se dite il prossimo che dici un'altra parola vi giuro lo sbatto fuori Ma perché? Qua non starei bene? Qua? Ma non credo proprio che faccia al caso vostro Eh, perché no? A mille idea piace E ancora? Volete stare zitti? Vabbè scusate questa non è una scuola serale Eh, appunto, per questo è che non va bene Ma come non va bene? Io qua fuori ho visto pure un bel divanetto Io mi metto la buona buona Voi vi fate la vostra lezione E man mano che escono li servo io Signora, ho capito bene Sì, certo Su, non mi dite di no Dalla vostra faccia si vede che voi siete una persona tanto perbene, gentile E dalla vostra espressione ho capito che sono Assunta Sentite, signora Assunta Chi è Assunta? Voi, la vedrete che vi chiamate Assunta Ma quando mai scusate Io ho detto che sono Assunta Nel senso che voi mi assumete in questa scuola Io mi chiamo Moira Piacere Piacere, ma io, devo dirvi la verità Non ho capito poi dove volete essere Assunta Ma qua, scusate, avete detto che questa è una scuola? Sì signore Questi sono gli alunni? Sì signore Voi siete il professore? Sì signore E quando avete finito voi ve li passate a me Signora, ma non ho capito bene Cioè voi quando sono finite le le lezioni Mi prendete gli alunni e ve li portate sul divano E non mi c'è necessariamente alla fine della lezione Anche durante gli intervalli Quando vanno al bagno Quando escono per fumare una sigaretta Io mi metto là e gli faccio un servizio a mestiere Eh, però adesso posso andarmi a fumare una sigaretta? Ma se io invece dovrei uscire Dovrei andare in bagno, è possibile Mi muovete, non vi permettete di uscire Senta, questa è una proposta assurda Ma perché? Scusate, guardate che io vi do anche le provvigioni Eh, anche le provvigioni Eh, certo Così andiamo a finire in galera tutti quanti Quale galera? Basta che mi fate una bella fattura E il problema non sussiste Signora, ma quale fattura? Cioè, forse voi non avete capito A noi il vostro mestiere non ci interessa Al limite se facevate la bidella La bidella? Oh, e faccio la bidella E poi chi mi impedisce di fare anche il mio mestiere Mentre voi siete qui? L'importante è che io non ricorri più alla ferrovia Madonna, signora, ma forse queste cose Non le dovete dire neanche per scherzo Queste cose non stanno né in cielo né in terra E' un momento, proposto, vengono a me i pres Piacete? Vengono anche, sono il capoclasse di questa brava gente Proposto, potrebbe essere una buona idea E poi immaginate la nostra scuola Diventerebbe così da un giorno all'altro all'avanguardia Si si, chissà quante cose ci potrebbe insegnare Ma che bravi Io ci voglio fare pure il dopo scuola Oh, ma che bravi Ragazzi, ma vogliamo fare i seri? Io già mi vedo i titoli sul giornale La prima scuola al mondo a luci rosse Ma come ti permetti? Ma non hai capito che io sono una professionista seria? Una professionista seria? Voi avete detto che ci faccio dei servizi Capo o ti vanno? I servizi te li fai fare da tua sorella, hai capito? Signora, scusate, ma voi che mestiere fanno? Io? Ma come non avete capito? Io sono una manicurista E modestamente sono pure la più brava di tutta la zona della ferrovia Che ti possono bene dire? Io non avevo capito niente Si, ma pure io, eh, comunque Eh, pure io Era così chiaro? Ma signora, vedete che siete state voi che ci avete confuso le idee Oh, poverini Eh, si, voi avete detto che ci davate pure le prove i giorni Ma certo, voi mi pagate come bidella e io vi do le percentuali sul mio lavoro di manicurista Ci serve una bidella Vabbè, ma ve l'ho detto che io faccio quello e quello Io non so se è possibile Devo parlare con il titolare E parliamo Eh, almeno prendetemi in prova Senza impegno E poi se sarà, sarà Eh, Leonardo Tu che dici? Io sono d'accordo E voi ragazzi siete tutti d'accordo? Siiii Grazie, grazie Non so fare le espressioni Nelle moltiplicazioni Tengono uno sempre male Se c'è qualche decimale Le parentesi sono state Donde? Mi confono la mente Non volte Proprio come fa l'amore Ei ... fire Non so fare le espressioni Nelle moltiplicazioni Tengono uno sempre male Se c'è qualche decimale Le parentesi sono state Mi confono la mente Proprio come fa l'amore Fra parentesi di cuore Le parentesi ammattita Cambieranno la tua vita Se ne scrivi penna sfera Esistenza tutta intera C'è chi usa solo penna E chi mette il punto e dice E c'è tanto c'è chi clicca Voi mi ricordate quando io feci l'esame di maturità E il professore mi disse Fischkezi, non farei un esame con i piedi E gli disse magari mi piace 40 rubri Grazie 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 Grazie